Le persone sono arroganti, ricattano le istituzioni, io penso che è ben diversa la cosa, penso che questo sindaco vuole dimostrare di essere il belliscuolo di Napoli, penso che questo sindaco è un atto che dice delle bugie ai cittadini di Napoli d'anno, lui si deve assumere le proprie responsabilità e dare una risposta ai cittadini di Napoli d'anno, non può solo dimostrare di pulire la città con l'arroganza e con le forze dei comuni, noi pensiamo che si vogliono veramente dimostrare e pulire questa città togliendo anche le bancarelle, noi siamo d'accordo sulla legalità, siamo d'accordo anche se ci possono togliere, i pochi possiamo guadagnare con le bancarelle, ma devo creare i presupposti per queste cose, che non si può togliere il pano ai figli che sono qua, che non si può togliere la dignità ai cittadini di Napoli d'anno.